Sono stata una bambina, poi una ragazza. Adesso sono una donna, che nel silenzio delle lacrime e nell'oscurità dei segreti, oggi rompe il silenzio e dice basta. Basta ad ogni forma di controllo e possessività. Basta ad ogni atto di violenza. Basta il silenzio complice degli abusi. Insieme possiamo creare un mondo in cui nessuna donna debba temere la sua sicurezza. La nostra voce è potente. La violenza sulle donne non è accettabile. Alziamo la voce. Unitevi a noi nel dire basta. L'Ordine delle professioni infermieristiche di Caltanissetta per il 25 novembre.